Musica 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 Ehi! Mamma mia, mamma mia Musica Basta Basta, basta Non ce la faccio più Giuseppe possiamo parlare un attimo? Che è successo? Che è successo? Beh, Giuseppe, io non ce la faccio più, vedi che condizione so io? Dalla mattina alla sera? Vedi? Ho capito ma penso che è normale no? Non è normale, è russa la notte, è sbava, non ti nascondo che puzza anche un po'. Ho capito ma alla fine però non è un bambino, cioè è grande, capisce, ubbidisce, no? Che ubbidisce? Fa sempre un casino quando vengono le persone, non ti dico che cosa mi combina, un macello, un macello. Ok, e che dobbiamo fare ma? Lo dobbiamo lasciare in mezzo alla strada? Sì, Giuseppe, sì, basta. Lassammo in mezzo alle strade perché capisci, Giuseppe, capisci. Lo so che è difficile però ti prego non fare così, non fare così. Vedrai, troverai gente che ti vorrà ancora più bene però non fare così. Certo che avrò tu però eh, bucavi con mano puoi al cucierti voti eh, dai. Non stare male, vedrai che le cose andranno meglio, va bene? Abbiamo deciso così, ti vogliamo bene. Sparimo? Animali, se anche voi quest'estate volete fare la vacanza di tre giorni a casa l'abbate da 50 euro, non abbandonate i vostri cani, abbandonate un parente, un cugino, uno zio, ma pure un padre, ma non abbandonate i vostri cani, quelli vogliono veramente bene, ok? Stop, va bene. A posto? Beh, chiamo a papà che prendiamo la bottiglia, va. Ma ci sta a dici? Come? Papà, ma ci sta a dici?